Mario del Giglio Nel triangolo del mistero, attraverso Mario del Giglio ID Spiegaci meglio Nel contesto dell'esempio del film, come possono interagire i vari karma? Risposta Lo stimolo ti viene dato dagli altri Ho detto prima Come gli altri vedono te, tu vedi gli altri Ma tu devi migliorare la tua parte E non farti vedere dagli altri che la reciti senza accettarla Se tu l'accetti e la vivi convinto che l'hai scelta tu Prima che ti sia stata assegnata dalla regista Gli altri miglioreranno la loro Altrettanto faranno gli altri per loro conto Ma a te questo non deve interessare